Dove dica la verità, perché ho paura che comunque essere figlio di un padre così famoso, così celebre come me, possa in qualche modo influir negativamente sul suo sviluppo, cioè mettetevi nei suoi panni, cioè se voi fosse figli di Mario De Lillo non sarebbe facile, no? Cioè voi immaginatevi di essere figli, che ne so, tipo di Michael Jackson, di Sylvester Stallone, a vive nell'ombra di sto padre così glorioso, che poi tutti quanti in giro quando ti incontrano alla rustica ti fanno, oh ma tu padre come sta, è pesante, cioè non vorrei che poi mi odiasse quando cresce perché sono troppo famoso, capito? È greve. Cioè immaginatevi il primo giorno di scuola de Mifio, tutto innocente col grembiulino o zainetto, fanno appello appena arrivano a De Lillo, tutta la classe pura maestra, arte povera, non molla, non molla. Eh, non deve essere facile, regà. Cioè voi immaginatevi tipo alle scuole medie, la prima fidanzatina de Mifio, che si fidanzerà con lui soltanto perché è Mifio, lui si innamorerà de lei per poi scoprire che questa era una gold digger che si è fidanzata con lui soltanto per arrivare a me. Cioè queste sono cose pesanti, regà. E quindi niente, la sua sarà una vita complicatissima, fino a quando arriverà il giorno del mio funerale, in cui lui magari sarà contento perché dirà, oh ecco, almeno adesso mi goto l'eredità di mio padre, e quel giorno scoprirà che io ero tanto famoso quanto povero. Qualca droia, purello. E quindi niente, Mifio se potrebbe ritrovare a tipo a 35 anni senza una lira pieno dei debiti, che per i pagasseli lo faranno entrare dentro una cosa tipo Squid Game. No, vabbè, non ci posso pensare. No, vabbè, non ci posso pensare. No, vabbè, non ci posso pensare. Grazie a tutti.